Capitolo 2 Or, essendo Gesù nato in Bethlehem di Giudea, ai dì del re Erode, ecco dei magi d'Oriente arrivarono in Gerusalemme dicendo, Dov'è il re dei Giudei che è nato? Poiché noi abbiamo veduto la sua stella in Oriente, e siamo venuti per adorarlo. Udito questo, il re Erode fu turbato, e tutta Gerusalemme con lui. E, radunati tutti i capi sacerdoti e gli iscrivi del popolo, si informò da loro dove il Cristo doveva nascere. Ed essi gli dissero, In Bethlehem di Giudea, poiché così è scritto per mezzo del profeta, E tu, Bethlehem, terra di Giuda, non sei punto la minima fra le città principali di Giuda, perché da te uscirà un principe, che pascerà il mio popolo Israele. Allora, Erode, chiamati di nascosto i magi, si informò esattamente da loro del tempo in cui la stella era apparita. E, mandandoli a Bethlehem, disse loro, Andate, e domandate diligentemente del fanciullino, e quando lo avrete trovato, fatemelo sapere, affinché io pure venga ad adorarlo. Essi dunque, udito il re, partirono, ed ecco la stella che avevano visto in Oriente, andava dinanzi a loro, finché, giunta al luogo dove era il fanciullino, vi si fermò sopra. Ed essi, veduta la stella, si rallegrarono di grandissima allegrezza. Ed entrati nella casa, videro il fanciullino con Maria, sua madre, e prostratisi lo adorarono, ed aperti i loro tesori, gli offrirono dei doni, oro, incenso e mirra. Poi, essendo stati divinamente avvertiti in sogno di non ripassare da Erode per altra via, tornarono al loro paese. Partiti che furono, ecco un angelo del Signore apparve in sogno a Giuseppe e gli disse, Levati, prendi il fanciullino e sua madre, e fuggi in Egitto, e sta qui vi, finché io non te il dica, perché Erode cercherà il fanciullino per farlo morire. Egli dunque, levatosi, prese di notte il fanciullino e sua madre, e si ritirò in Egitto. Ed Ivi stette fino alla morte di Erode, affinché s'adempiesse quello che fu detto dal Signore, per mezzo del profeta. Fuor d'Egitto, chiamai il mio figliuolo. Allora Erode, vedutosi beffato dai magi, s'adirò gravemente, e mandò ad uccidere tutti i maschi che erano in Betlehem, e in tutto il suo territorio, dall'età di due anni in su, secondo il tempo del quale s'era esattamente informato dai magi. Allora, si adempie quello che fu detto per bocca del profeta Geremia. Un grido è stato udito in rama, un pianto ed un lamento grande. Rachele piange i suoi figliuoli, e ricusa d'esser consolata, perché non sono più. Ma dopo che Erode fu morto, ecco un angelo del Signore apparve in sonno a Giuseppe d'Egitto e gli disse, levati, prendi il fanciullino e sua madre, e vattene nel paese d'Israele, perché son morti coloro che cercavano la vita del fanciullino. Ed egli, levatosi, prese il fanciullino e sua madre, ed entrò nel paese d'Israele. Ma, udito che in Giudea regnava Archelao invece d'Erode, suo padre, temette d'andar colà, ed essendo stato divinamente avvertito in sogno, si ritirò nelle parti della Galilea, e venne ad abitare in una città detta Nazareth, affinché si adempiesse quello che era stato detto dai profeti, che egli sarebbe chiamato Nazareno.